Buongiorno, benvenuti, sono Simona, vi do il benvenuto al nuovo appuntamento di Infinito e Tom, News dal Cosmo. Oggi avremo con noi Antonaldo D'Aferio dell'Università di Torino. Ciao Antonaldo! Ciao! Come sapete, News dal Cosmo sono delle chiacchierate, in maniera anche informale, con amici del planetario, ricercatori che si occupano di astrofisica, ricerca in astronomia e oggi con noi Antonaldo parlerà di temi molto, molto in prima approssimazione, molto complicati, ma vedrete che Antonaldo sarà bravissimo a raccontarci, si parlerà di materia oscura, si parlerà di teorie alternative di gravità, ma non vi voglio svelare nulla. L'unica cosa che vi dico è che se poi volete vedere le interviste, anche quelle che abbiamo già fatto insieme ad altri ricercatori, potete andare sul sito www.planetarioeditorino.it nella sezione Infinito e Tom, trovate la parte del News dal Cosmo con le nostre interviste. Ok, torniamo su di te, Antonaldo. Prima di tutto di nuovo grazie che hai deciso di dedicarci il tuo tempo e anche di ospitarci a casa tua, si vede un bel quadro, ti trovo. Grazie a voi. Ci seguono tantissimi anche studenti e come ho chiesto anche ad altri tuoi predecessori, raccontaci qualcosa di te, anche perché secondo me queste interviste possono essere anche utili per orientare magari alcune scelte future di alcuni studenti che in questo momento stanno facendo l'università, magari stanno studiando fisica e magari sperano nel prossimo futuro di diventare dei ricercatori in fisica, astrofisica insomma. Qual è stato il tuo percorso? Certamente, allora beh, io ho studiato fisica a Torino pensando di fare fisica delle particelle elementari in realtà e poi mi sono entusiasmato all'astrofisica perché ho scoperto che il campo delle particelle elementari era abbastanza saturo, nel senso che non c'era molta libertà di scelta negli argomenti di studio, mentre l'astrofisica negli anni, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, diciamo, c'era tutto l'aspetto dell'astrofisica estragalattica e della cosmologia estremamente interessante, aperto, pieno di domande a cui non avevamo risposte e quindi la cosa mi aveva estremamente incuriosito. E poi ho fatto il dottorato di ricerca a metà tra Milano e l'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts e lì ho imparato molto sulla dinamica dei sistemi di galassie, quindi sulla struttura su grande scala, sugli gruppi, sugli ammassi di galassie. Sono stato lì quattro anni e poi dopo sono andato al Max Planck Institute for Astrophysics a Garching in Germania vicino a Monaco di Baviera dove ho continuato i miei lavori, soprattutto sui modelli di formazione di galassie, quindi come le galassie si formano nella struttura su grande scala. Se non sbaglio hai avuto anche la possibilità, l'onere e l'onore di lavorare con Margaret Geller, vero? Margaret Geller è stata la mia, il mio mentore diciamo, mentre ero... Come si era la notizia? L'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, tra l'altro mi... diciamo un po' familiarmente dico che lei è la mia mamma e il mio nonno è Peebles, perché è il premio Nobel dell'anno scorso che è stato il suo relatore di tesi dottorato, quindi diciamo un po' di antenati di questo tipo. Dall'estero mentre ho fatto il dottorato a Milano, in realtà il mio relatore di tesi era Bruno Bertotti, che è un personaggio di levatura internazionale per la fisica delle onde gravitazionali e lui tra l'altro ha anche un trascorso di collaborazione intensa con Schrödinger, quindi diciamo anche da quel lato ho degli antenati diciamo di una certa elevatura, quindi questo mi è sempre un po' imbarazzato. Diciamo che dove sei passato tu qualcuno si è beccato un Nobel, perché onde gravitazionali recentemente è stato diciamo tra i campi che ha visto l'assegnazione del Nobel, Peebles è preso il Nobel, insomma tu ci sei passato vicino, chi lo sa, magari... No, in realtà è che non miro bene, perché quando ero al CFA a Harvard, io avevo l'ufficio di fronte all'ufficio di Adam Rees, e lui stava facendo il dottorato di ricerca appunto sulle Supernove, e allora adesso mi sono chiesto se avessi veramente scelto l'argomento giusto, come tesi di dottorato, perché quindi se no ci conosciamo bene, però sì sono sempre nel posto sbagliato, diciamo molto vicino, ma non abbastanza... Ma sei un acceleratore, cioè dai lo spazio ad altri, spingi però nella direzione giusta, poi quindi sei tornato a Torino, adesso nello specifico di cosa ti occupi? Allora adesso sono a Torino di nuovo e mi occupo di appunto di formazioni di strutture cosmiche, di ammassi di galassie, di dinamica delle galassie, e anche e soprattutto di come possiamo evitare di dover far ricorso alla materia oscura per spiegare la dinamica delle strutture gravitazionali. Il tema della materia oscura è un tema che ci accompagna in queste interviste, è stato con noi anche Stefano Camera e ha cercato in qualche modo di raccontarci che cos'è la materia oscura e ovviamente per chi non l'avesse seguito la precedente intervista, io tornerò adesso con te a chiederti un filo di approfondire questo tema, ma soprattutto quando si parla di dinamica delle galassie, torna sempre in auge la questione della materia oscura. Come mai sono così connessi? Certo, perché quando noi osserviamo una galassia, vediamo diverse componenti della galassia e in particolare guardiamo anche le stelle che compongono la galassia e le stelle hanno delle velocità che misuriamo e quindi le stelle quando si muovono con una certa velocità, immaginiamo che si muovano con quella velocità in risposta a una interazione gravitazionale con la materia che le circonda. E uno può immaginare quanta materia ci sia intorno a queste stelle guardando quanta luminosità, quanta luce arriva dalla materia che le circonda. Siccome noi abbiamo un'idea di quanta materia sia associata a una certa luminosità, è chiaro che abbiamo un'idea di quanta materia circonda le stelle e quindi noi possiamo immaginare, seguendo la teoria di gravitazione di Newton e poi eventualmente anche la relatività generale, possiamo immaginare quale sia la velocità che ci aspettiamo in base alla materia che circonda queste stelle. Quindi osservando la radiazione, quindi misuriamo la massa che c'è intorno alle stelle di cui noi riusciamo a misurare la luminosità. Esattamente, esattamente. Tutto ciò che emette luce, insomma. Tutto ciò che emette luce in realtà è associato naturalmente a una certa quantità di materia e noi possiamo stimare quanta materia è associata a questa luce che misuriamo con i telescopi. e questa materia che noi vediamo decide quanto debba essere la velocità di queste stelle e però c'è una discrepanza tra la velocità che ci aspettiamo dalla materia luminosa e la velocità che effettivamente misuriamo per le stelle e quindi vediamo che queste stelle si muovono molto più rapidamente di quanto non si dovrebbero muovere in base alla materia che le circonda, alla materia luminosa. Allora, così, da giochi, esercizi di fisica di base, questo porterebbe a dire che allora le galassie dovrebbero fare, disgregarsi, no? Cioè avere un effetto... Benissimo, esatto. Il problema è proprio quello, che uno dovrebbe dire, beh, se le stelle si muovono così velocemente, cioè troppo velocemente per stare legate in una galassia, allora vuol dire che la galassia dovrebbe disperdersi, non dovrebbe stare lì. Invece la vediamo lì e quindi vuol dire che c'è più materia di quanta non ne vediamo dalla luce che arriva dalle galassie. E quindi per sottrazione riusciamo a poter dire quanta materia ci aspettiamo che ci sia? Esattamente, esattamente. C'è un fattore... E' un fattore, diciamo, nelle galassie un po' meno di 10, diciamo, un fattore 7-8, quindi c'è 7-8 parti di materia oscura e 2 o 3 di materia luminosa. Poi dipende molto dalla regione, per esempio nella parte centrale delle galassie probabilmente non sembra non essere necessaria nessuna materia oscura, mentre la materia oscura diventa dominante, diventa, diciamo, il contributo fondamentale nelle regioni più esterne. E quindi, diciamo, la distribuzione è disomogenea, nel senso che c'è più materia luminosa rispetto alla materia oscura nella parte centrale e viceversa c'è molta più materia oscura che materia luminosa nelle parti esterne. Quindi c'è un rapporto che cambia in base alla regione della galassia che stiamo guardando. Questo è un, diciamo, è un po' sospetto, ma può avere un senso nel modello standard della formazione delle galassie. Ma la materia oscura ce l'aspettiamo, diciamo, all'interno delle galassie, il collante che tiene unito la galassia o permea sostanzialmente? Per esempio, a massi di galassie, la materia oscura è localizzata, voi ve l'aspettate in punti precisi dell'ammasso? È qualcosa che è distribuita in tutto l'ammasso della galassia? Negli ammassi ci aspettiamo. C'è questa distribuzione, diciamo, fisica, spaziale, di come vi aspettate che sia? Sì, sì, ci aspettiamo in realtà che la materia oscura, diciamo, permei tutte le strutture cosmiche e che le galassie in realtà siano soltanto dei punti all'interno di questa struttura di materia oscura, un po' appunto come i canditi nel panettone, no? Quindi ci aspettiamo che le galassie siano i canditi e che la pasta del panettone sia la materia oscura. Questo avviene nelle galassie dove il ruolo dei canditi è fatto dalle stelle e anche negli ammassi dei galassie dove il ruolo dei canditi è fatto invece dalle galassie. E quindi, diciamo, la materia oscura ce l'abbiamo dappertutto con una certa distribuzione che possiamo prevedere dalle simulazioni, diciamo, numeriche e gravitazionali e che domina, tra l'altro, sulle scale delle galassie molto più che non sulla scala degli ammassi e non molto più che non sulla scala delle galassie. Negli ammassi ci aspettiamo che il 90% della materia sia, anzi, il 95% sia in materia oscura, distribuita, poi, diciamo, c'è una frazione non trascurabile di gas, di plasma intergalattico caldo e poi ci sono le galassie. Avremmo visto recentemente delle simulazioni, non so se tu hai la possibilità di mostrarcene, in cui si vede proprio il ruolo della materia oscura in questi ammassi di galassie, si vedono proprio questi filamenti. Hai qualcosa? Vuoi condividere con noi? Sì, io posso condividere, vediamo se posso condividere un'immagine classica dell'ammasso proiettile. Non so se alla fine è comparso la condivisione del... Non è ancora, ma... Ecco, vediamo dov'è... Sta succedendo qualcosa? Sì? Eccoci. Ecco, questo è l'ammasso proiettile. Il famoso... Il famoso bullet cluster. E qui, sulla immagine di sinistra, si vedono... Si vede la distribuzione delle galassie, che sono queste macchioline chiare, gialle o bianche. E, diciamo, il... Invece, sull'immagine di destra, c'è questa nube azzurra e poi arancione e gialla, che rappresenta il plasma caldo di cui parlavo prima, che emette... Non emette nelle onde, diciamo, nella banda elettromagnetica dell'ottica. Quindi non lo vediamo a occhio nudo, ma sono raggi X, perché il gas è estremamente caldo. Allora, si vede... Sono la stessa... Lo stesso campo di vista nelle due bande, diciamo, a destra la banda X e a sinistra l'ottico. Diciamo, quindi... Nell'immagine di destra sono sparite le galassie perché le abbiamo... Sono state rimosse, diciamo, dalla banda ottica. E qui, invece, i contorni in verde dovrebbero rappresentare la distribuzione di materia oscura. E da qui si vede che questo ammasso di galassie in realtà probabilmente è lo stadio intermedio di una collisione tra questo ammasso di sinistra più grande e questo gruppo che sta a destra un pochettino più piccolo. Quindi il gruppo più piccolo ha attraversato questo ammasso più grande e si è portato dietro, naturalmente, le galassie e la materia oscura che lo permea. Mentre il gas e il plasma caldo è rimasto indietro, come si vede nell'immagine di destra. Quindi c'è, diciamo, questa macchia più piccola, chiara, a destra che è il plasma del gruppo più piccolino che è rimasto indietro rispetto alla distribuzione di materia oscura vista con i contorni verdi. Un po' come quando appunto c'è uno scontro di traffico tra due file di automobili e quindi c'è un certo numero di automobili che rimane ferma mentre altre riescono ad andare oltre. Questo gas è quindi rimasto frenato dalla presenza del gas caldo dell'ammasso più grande. Quindi questo è un esempio classico in cui si vede che la materia oscura, quindi i contorni verdi e le galassie, condividono la distribuzione nello spazio, quindi si distribuiscono grossolanamente nella stessa regione, mentre il plasma che appunto si scontra, il plasma caldo che si scontra, è concentrato nella parte centrale. L'ammasso di, diciamo, la materia oscura la si vede, diciamo, non la vediamo naturalmente a occhio nudo, ma la deriviamo, quindi i contorni verdi sono derivati grazie al fenomeno dalla lente gravitazionale. Quindi forse posso fare un esempio di questo. Quando la luce, diciamo, se questo è l'ammasso, questo è uno schema classico in cui ci sono le galassie che sono rappresentate da queste macchie chiare, ce ne sono tante, quindi questo rappresenta l'ammasso. In alto a sinistra c'è una galassia di fondo, in basso a destra c'è la Terra, quindi la luce parte dalla galassia in alto a sinistra, attraversa lo spazio, e quando attraversa l'ammasso di galassie, lo spazio deformato dalla, diciamo, in accordo alla teoria della realizzità generale, il raggio di luce viene, invece di proseguire dritto, viene deviato, e questo crea il fenomeno della lente gravitazionale. In base alla deviazione di questo raggio di luce, noi siamo in grado di capire di quale sia l'entità dell'avvallamento nello spazio, nello spazio-tempo, dovuto all'ammasso di galassie. Quindi siamo in grado di dire quanta massa c'è e dove sta. Quindi misurando la distorsione della luce pesi il tuo ammasso, che fa la lente sostanzialmente. Esatto, vi faccio vedere un esempio, questo forse no, ma questo si fa vedere, questo è una simulazione di galassie di fondo, quindi galassie molto lontane. Se queste galassie, la luce di queste galassie attraversa la materia tra noi e le galassie stesse, la loro luce viene deformata e noi abbiamo un'immagine di questo tipo, per esempio. Quindi questa è l'immagine delle galassie senza la deformazione dell'ente gravitazionale e questa è l'immagine con la deformazione. Quindi si vede subito che le cose sono leggermente diverse e quindi in base a come vengono deformate noi siamo in grado di dire quanta massa ci sia in mezzo tra noi e queste galassie. Il punto è che noi, diciamo, vediamo solo queste immagini e non vediamo queste immagini nella realtà, perché vediamo soltanto quelle, diciamo, deformate. Quindi dobbiamo fare delle ipotesi su come debba essere la materia, come devono essere le immagini delle galassie in assenza della deformazione. Quindi, diciamo, qui questo introduce un errore che chiamiamo errore sistematico sulla stima di quanta massa ci sia tra noi e le galassie di fondo, diciamo. Questo è... Possiamo fare un confronto con le galassie più vicine a noi, però comunque... Possiamo fare un confronto, chiaramente, e queste le prendiamo come punto di riferimento, però chiaramente non siamo sicuri che siano effettivamente identiche a quelle che sono di fondo. Il problema vero qui è che spesso, qui si vede anche a occhio, che la deformazione principale è nella forma delle galassie. Questa galassie è diventata molto ellittica, per esempio. Vedete che le galassie sono tutte più deformate, mentre le galassie di partenza in questa simulazione sono tutte rotonde, e mentre qui sono tutte deformate. Quindi in base alla deformazione uno risale appunto all'effetto di identità gravitazionale. Però le galassie noi sappiamo che sono di per sé ellittiche, molte. Anche i dischi in realtà si sono osservati non, diciamo, di fronte, ma di taglio, tendono ad essere un po' ellittiche. Quindi non sappiamo... Facciamo un'analisi statistica per dire se questa deformazione, diciamo, associamo una deformazione in maniera statistica, non al singolo gesto, perché il singolo gesto non sappiamo di quanto si sia effettivamente deformato. Però statisticamente si vede qui che c'è una certa coerenza nella deformazione delle varie galassie, diciamo, non c'è una deformazione casuale, no? Cioè, uno a occhio vede un po' come, diciamo, che ci siano... c'è una struttura, per esempio, qui in basso a destra, c'è una struttura circolare qui in basso a sinistra, e così via. Quindi queste correlazioni tra le varie deformazioni ci permettono di risalire a quale possa essere l'effettiva deformazione della galassia, anche se la galassia di fondo di per sé non è necessariamente sferica. Chiaramente questo si fa in maniera quantitativa, però... Certo. C'è un margine di errore. Diciamo, le percentuali relative sono sempre le stesse. Che percentuale di materia oscura, diciamo, in totale ci si aspetta? Rimane sempre quella di cui prima? Eh, più o meno, sì, nel senso che per gli ammassi di galassie, diciamo, il 5% della massa va in galassie, il 10-15% va in questo plasma caldo che abbiamo visto prima, questo gas caldo, il 15-20% della massa, e il resto, quindi intorno all'80-85%, è rappresentato dalla materia oscura. Nelle galassie questo rapporto cambia, nel senso che nelle galassie c'è meno materia oscura in proporzione rispetto agli ammassi di galassie. Negli ammassi di galassie la materia oscura è decisamente dominante, quindi il problema della materia oscura è molto più pressante sulla scala degli ammassi che non sulla scala delle galassie. Per quanto, appunto, come dicevo prima, dipende dalle regioni, diciamo, nella parte centrale delle galassie non c'è bisogno di mettere oscura, ma nelle parti esterne si può avere che il 90-95% della materia è materia oscura in una galassia. Globalmente uno può dire che il 70% della materia è luminosa in una galassia, è oscura in una galassia, e il 30% è luminosa. però qui il rapporto cambia molto a seconda della distanza che andiamo a prendere dal centro della galassia, quindi è un pochettino più complicato. Comunque è una percentuale elevatissima. Comunque è una percentuale alta. A livello cosmico, globalmente, noi sappiamo che praticamente l'85% della materia deve essere materia oscura. che è complicato da mantenere. Che è complicato, sì. Cioè, sostenere che l'80% della materia sia fatta da qualcosa che ad oggi non sappiamo che cosa sia sostanzialmente, no? No, non può essere materia ordinaria, quindi non può essere la stessa materia di cui siamo fatti noi, di cui sono fatte le stelle e i pianeti, può essere fatta di particelle esotiche che non... Che interagiscono no, gravitazionalmente basta sostanzialmente. Gravitazionalmente basta, esatto. O, diciamo, con l'interazione debole se sono delle WIMPs, delle Weakly Interacting Massive Particles. Però potrebbero anche non esserlo. Adesso, dopo un certo numero di anni a LHC, senza aver confermato la validità delle teorie supersimmetriche, che erano, erano delle teorie più promettenti dal punto di vista dei candidati delle particelle di materia oscura, incominciamo ad avere tutto il quadro comincia a scricchiolare perché non abbiamo, diciamo, incomincia a diventare difficile trovare dei candidati che possano essere effettivamente i costituenti di questa materia oscura. Ci sono idee diverse, per esempio, ci sono gli azioni che sono particelle che non derivano dalle teorie supersimmetriche. Sono delle azioni, per esempio, ce ne sono di diversi tipi, e vengono fuori da sviluppi della teoria di quanto cromodinamica e in realtà sono degli oggetti, sono delle particelle elementari che però hanno le dimensioni di una galassia nana, quindi hanno le dimensioni dei chiloparsec, quindi hanno una massa che può essere dell'ordine di, cioè, miliardi di miliardi più piccoli della massa del neutrino e quindi, diciamo, per chi sa cos'è un elettronvolt dell'ordine di 10 alla meno 22, 10 alla meno 23 elettronvolt e questo vuol dire che sono dimensioni enormi, sono dimensioni su scala cosmic, diciamo, galattica e quindi se effettivamente esistessero queste particelle in laboratorio non le vedremmo mai. Certo. È impossibile vederle perché non le vediscono, però questi tipi di teorie hanno delle predizioni abbastanza precise e quindi di nuovo possono essere vincolate attraverso le misure astrofisiche, quindi le proprietà delle galassie o della struttura cosmica in realtà possono vincolare questi possibili modelli di teorie alternative di materia oscura, diciamo, che non è la materia oscura fatta di particelle elementari che possiamo vedere in laboratori sotterranei o in acceleratori di particelle ma possono essere confermati solo con le osservazioni cosmiche. Diciamo che a me fa sempre un po' specie pensare di introdurre una teoria alternativa che possa spiegare la presenza di materia oscura qualcosa che tra l'altro non sappiamo bene cosa possa essere quanto e qui è una provocazione magari mettere in discussione la nostra teoria, Assolutamente. che noi applichiamo è molto complicato mettere in discussione la teoria di Newton perché vale, funziona da tantissimo tempo o anche la relatività generale però la mia domanda è forse non è arrivato il momento di rivedere come è stato un passaggio per esempio naturale tra la teoria di gravitazione di Newton passare la relatività generale forse c'è qualcosa da aggiustare non lo so o addirittura da cambiare nella teoria magari è la teoria che non funziona è possibile? Assolutamente sì sì assolutamente hai colto anche un punto chiave cioè spesso in questi anni soprattutto il modello standard quello che utilizza appunto i WIMS come particelle di materia oscura hanno diciamo hanno fatto delle predizioni ma su certe scale soprattutto sulle scale delle galassie non hanno fatto predizioni ma hanno cercato di riprodurre i dati osservativi più che predire i dati osservativi invece se diciamo uno può provare ad avere una prospettiva diversa e quindi immaginare una modifica della teoria di gravità e vedere se questa modifica della teoria di gravità in realtà produce delle predizioni che poi possono essere verificate con le osservazioni e questo effettivamente è fatto si è fatto è stato fatto c'è una teoria che è stata proposta nel 1983 da Mordecai Milgram che si chiama Modify Newtonian Dynamics che viene detta MOND per brevità e nel 1983 Mordecai Milgram scrisse tre articoli in cui snocciolava una serie di predizioni che poi sono state confermate nei decenni successivi e allora uno si chiede perché questa teoria non viene diciamo accolta in maniera entusiasta dalla comunità naturale dalla comunità scientifica il problema è che Mond spiega molto bene le proprietà dinamiche delle galassie e predice tra l'altro molte delle proprietà delle galassie ma fallisce almeno parzialmente sulla scala degli ammassi quindi sulla scala degli ammassi di galassie il mondo non ce la fa a rimuovere completamente la necessità di materia oscura e su scala cosmica quindi per quanto riguarda la formazione delle strutture cosmiche su scala più grande degli ammassi di galassie o anche diciamo andare a riprodurre per esempio le proprietà della radiazione di fondo a microonde lì non può fallire perché non ha non ha modo di predire le proprietà di queste strutture perché Mond è una teoria fenomenologica quindi è una teoria alla Newton quindi quando uno fa la teoria di gravitazione newtoniana spiega la dinamica del sistema solare può spiegare appunto la dinamica delle stelle ma non può fare effettivamente della cosmologia quindi la teoria di Newton anche non può fare cosmologia diciamo non può predire le proprietà della radiazione di fondo a microonde per far questo hai bisogno di una teoria che diciamo covariante la teoria dell'artità generale è una teoria covariante che comprende la teoria di Newton e quindi con quella teoria con l'artità generale possiamo anche fare della cosmologia Mond è una teoria a livello newtoniano quindi non puoi fare cosmologia per definizione perché non è come si dice una teoria covariante la gente ha provato a farla difficile posso chiederti se è possibile senza dover aggravare troppo il pubblico in cosa si discosta dalla fisica newtoniana cioè perché permette di descrivere meglio diciamo la anzi di non considerare la presenza della materia oscura certo ti faccio un esempio molto semplice in realtà partendo da vediamo se lo trovo un sistema una galassia nana questa è una galassia nana la vedi si la galassia del nana una galassia satellite della via lattea e qui la diciamo è una galassia sferoidale si vedono tanti puntini che sono le stelle quindi questo lontano dalla galassia classica disco che qualcuno può avere in testa una galassia molto piccola perché diciamo la via lattea ha un diametro di una trentina di chiloparsec e questo ha il diametro di un chiloparsec più o meno quindi è 30 volte più piccola grossomodo trentina di chiloparsec equivale circa 100.000 anni luce sì esattamente sono 100.000 anni luce questo è più o meno il diametro di 3.000 anni luce più o meno ok e questi i puntini sono le stelle allora di queste galassie di queste questo tipo di galassie noi siamo in grado oggi di misurare la velocità delle stelle e l'abbiamo fatto negli anni 90 queste prime misure delle velocità delle stelle in galassie di questo tipo nel 1983 quindi una decina d'anni prima Mond aveva predetto la seguente cosa allora per rispondere alla tua domanda in che cosa si distingue qui si vede chiaramente che rispetto a una galassia normale il numero di stelle per unità di aria è molto piccolo perché ci sono incominciamo a distinguere le stelle mentre in una galassia a disco per esempio vediamo una distribuzione uniforme di luminosità e non riusciamo a distinguere le stelle a occhio nudo poi chiaramente con i telescopi per galassie vicine lo facciamo ma qui già a occhio nudo distinguiamo le stelle mentre nelle galassie a disco no questo vuol dire che la densità quindi il numero di stelle per unità di volume in queste galassie è molto piccolo quindi ci sono poche stelle per unità di volume rispetto a una galassia a disco allora questo determina diciamo se dal punto di vista newtoniano quindi dalla teoria di Newton noi ci aspettiamo che in base alla materia che c'è qui dentro noi abbiamo una certa velocità delle stelle una certa accelerazione che poi determina una certa velocità delle stelle allora l'idea di Mondo è quella di dire fate attenzione perché quando si scende al di sotto di una certa accelerazione quindi quando l'accelerazione che io derivo newtonianamente è al di sotto di una certa soglia allora la legge di Newton non vale più ma ne vale una diversa quindi Mondo introduce una scala di accelerazione e quindi l'accelerazione è quanto varia la velocità di un oggetto per unità di tempo no? quindi quando e quindi diciamo l'introdurre la scala di accelerazione è strettamente legato al numero di stelle per unità di volume quindi questa galassia ha un'accelerazione molto diciamo ogni punto dello spazio all'interno di questa galassia l'accelerazione newtoniana è molto piccola cioè molto più piccola della soglia indicata da Mondo quindi qui ci si aspetta che Newton non valga più la cosa non è vera per esempio nelle parti centrali delle galassie disco lì l'accelerazione che ci aspettiamo dalla distribuzione di materia è molto più grande rispetto a questa soglia di Mondo e quindi ci aspettiamo che Newton valga ok quindi la densità deve essere bassa la densità deve essere bassa in maniera non è esattamente la densità ma è l'accelerazione che origina dalla densità certo e quindi quello che succede è che in un sistema di questo tipo uno si aspetta una deviazione molto forte dalla teoria newtoniana mentre non ci si aspetta non ci si aspetta una deviazione forte nelle parti centrali delle galassie a disco delle galassie a spirali per esempio allora questa predizione di Mordecai Milgrom nel 1983 avevamo diciamo sosteneva che se fossimo andati a osservare queste galassie nane e avessimo misurato la velocità di queste stelle all'interno di queste galassie avremmo trovato una discrepanza molto forte rispetto a Newton cosa che invece non vediamo nelle galassie a disco allora dieci anni quindici anni dopo la gente è andata a misurare la velocità di queste stelle e ha scoperto esattamente quello che viva previsto da Mond e infatti queste oggi diciamo l'interpretazione standard della dinamica di queste galassie nane è quella di dire che sono dominate dalla materia oscura quindi mentre prima parlavamo dell'ammasso di galassie che aveva l'85% di materia oscura nella concezione standard queste galassie nane non hanno l'85% ma hanno il 99% il 99,9% di materia oscura cioè le stelle sono quasi praticamente trascurabili rispetto alla materia oscura e questa è una predizione di Mond però rende anche un po' antipatico il fatto che su queste scale delle galassie ci sia molta più materia che non per esempio sulla scala delle galassie a disco che sono una scala un po' più grande e addirittura molto più materia che non sugli ammassi di galassie e quindi questo è un esempio diciamo di predizione della materia diversa della materia oscura fatta da una teoria che modifica la gravità la legge di gravitazione universale di Newton ma Mond ha fatto altre predizioni molto interessanti in realtà ma diciamo c'è anche come dire si va cauti nel cambiare la teoria perché probabilmente la mia domanda è si porta dietro poi per esempio il modello standard stesso no? a cascata forse bisogna mettere in discussione poi tantissimi tantissimi campi dell'astrofisica della cosmologia e io credo che noi astrofisici siamo un po' conservativi no? che lasciare andare questa teoria sia molto molto complicato del resto anche il buon Einstein lo era no? certo anche lui prima di certo certo e la tua opinione sulla materia oscura domanda non soltanto c'è o non c'è su come come dire nel prossimo futuro evolverà la ricerca in questo campo adesso sono tanti anni no? che si fa ricerca in materia sulla materia oscura certamente allora la materia oscura naturalmente è una soluzione alla comprensione della dinamica delle strutture cosmiche chiaramente non averla trovata per tutti questi decenni diciamo la mette in una cattiva luce tra l'altro essendo una teoria oscura e quindi diciamo difficilmente diciamo può essere la soluzione reale sicuramente non è non è così non è la soluzione semplice che ci si aspettava negli anni 70 e negli anni 80 non era nemmeno probabilmente non è la soluzione che ci si aspettava anche soltanto prima poco prima del Large Adrony Collider perché probabilmente non sono WIMPs perché altrimenti le avremmo probabilmente le avremmo già viste chiaramente non abbiamo detto la parola fine il problema è che quando uno va a vedere tutti gli esperimenti in essere sul pianeta e anche diciamo da osservazioni dallo spazio e va a vedere quali sono diciamo ancora diciamo le possibili particelle permesse con certi parametri quindi massa sezione DUT eccetera scopre che diciamo i parametri permessi non sono in accordo l'uno con l'altro quindi ci sono delle regioni diciamo delle particelle che sono permessi da certi esperimenti che invece vengono esclusi da altri esperimenti per esempio diciamo le particelle che potrebbero spiegare le osservazioni al Gran Sasso dell'esperimento DAMA vengono escluse da altri esperimenti sotterranei o da altri dati osservativi e quindi non sai se c'è un errore sistematico in DAMA o in altri esperimenti o c'è qualcosa che non abbiamo capito quindi al momento non ci sono non c'è una regione dello spazio dei parametri in cui puoi dire lì in quella regione ci deve essere necessariamente la particella di materia oscura cioè non sappiamo quale massa possa avere questa particella di materia oscura perché in realtà praticamente tutte le regioni sono state escluse o da uno o da un altro esperimento non è possibile che un po' come è successo con le onde gravitazionali non si abbia ancora la precisione della risoluzione giusta per scovarla insomma è un po' quello che è successo quando siamo riusciti a mettere in piedi in laigo poi siamo riusciti ad avere o virgo siamo riusciti ad avere le prime misure però voglio dire anche le onde gravitazionali erano predette nella teoria di Einstein quindi si parla di cento anni prima insomma certo certo ma diciamo che per le onde gravitazionali era chiaro che cosa ci si aspettasse cioè si sapeva che erano dei fenomeni di deformazione dello spazio-tempo con una certa intensità e quindi c'era bisogno di una certa sensibilità dello strumento e quindi si sapeva bene dove andare a finire diciamo si è voluto soltanto un certo numero di decenni per sviluppare la tecnologia e capire come rimuovere il rumore nella misura del segnale quindi diciamo non si navigava a vista si sapeva bene dove andare a parare tra l'altro c'erano misure diciamo c'erano prove indirette dell'esistenza delle onde gravitazionali quando Hulse e Taylor negli anni 70 scoprirono il sistema di stelle binarie che i neutroni binari che stavano diciamo diminuendo il raggio della loro orbita reciproca e quello che mancava era proprio l'energia persa per il raggiamento di onde gravitazionali non per niente hanno preso il Nobel per questo quindi si sapeva che dovevano esistere si sapeva che anzi si sapeva che esistevano perché non c'è altro modo per spiegare questi tipi di fenomeni osservati si sapeva che era un problema ingegneristico diciamo di misura qui navighiamo a vista perché abbiamo teorie che propongono certe particelle poi queste particelle non vengono rivelate quindi proponiamo altre teorie per proporre altre particelle di nuovo queste non vengono rivelate e così via e adesso vengono proposte particelle che in laboratori terrestri non verranno mai rivelate perché come si diceva prima magari sono degli azioni e quindi a questo punto non le riveleremmo mai quindi diciamo è un po' è un po' diciamo crea un po' di disagio questa cosa che non tutti diciamo non tutti nella comunità scientifica sentono a dire la verità forse lo sentiranno più avanti io personalmente la sento e quindi diciamo il mio sentire personale è che probabilmente la materia oscura non c'è e sicuramente la risposta va cercata in una modifica della teoria della gravitazione in quale direzione questa teoria vada fatta diciamo non lo sappiamo ci stiamo provando siamo un certo numero di persone in giro per il pianeta che ci provano e trovano delle cose diciamo più o meno promettenti però il confronto con le osservazioni è sempre l'ultima parola c'è da dire che ci sono alcune teorie che finora stanno reggendo bene almeno sulla scala delle galassie e il problema vero invece è sulla scala cosmica la casa cosmica qui il modello standard che prevede appunto della materia oscura più una costante cosmologica però funziona bene è chiaro che il disagio più grande ce l'hanno i fisici teorici che non riescono a mettere insieme la teoria della gravitazione con la teoria dei campi però qui c'è poi un altro discorso sulla gravitazione che è legato al fatto che c'è una domanda più profonda che ci si può porre cioè la gravitazione è effettivamente una forza o è semplicemente un fenomeno macroscopico che mi piace sempre fare il confronto con la temperatura la temperatura è una grandezza fisica che tutti conosciamo che misuriamo col termometro ma se vai sul mondo microscopico la temperatura non esiste perché è semplicemente dovuta al moto delle particelle microscopiche e qui potremmo trovarci di fronte a una cosa simile cioè la gravitazione la vediamo perché è un fenomeno collettivo macroscopico ma sulla scala delle particelle elementali la gravitazione non esiste e quindi questo potrebbe essere una soluzione e quindi unire le due teorie sostanzialmente esattamente tu su scala microscopica la teoria di gravità non c'è però quando vai su scala diciamo sulle scale macroscopiche quindi sulla scala nostra di pianeti di sture cosmiche la gravità si manifesta come un fenomeno macroscopico però non aver capito la natura intima di questo fenomeno ci porta a dover introdurre la presenza di materia oscura per esempio o l'energia oscura di cui non abbiamo parlato ma che è un altro aspetto problematico delle osservazioni cosmologiche quindi se ho capito bene chiaramente dobbiamo approfondire la diciamo queste teorie che modificano in qualche modo la teoria di gravità ma bisognerà unire la visione diciamo del microscopico con quello del macroscopico perché probabilmente la risposta è lì certamente devono descrivere ma anche in maniera diversa ma devono descrivere la realtà certo 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 sì sì la risposta sta nella natura della gravità questa è una cosa che non sappiamo quindi non puoi fare previsioni non possiamo dire che ci rivediamo fra un anno mi racconti magari anche perché a quel punto sì che allora io posso dire che di aver conosciuto un futuro premio Nobel direi magari ti potrei parlare da Stoccolma perché ormai le onde gravitazionali sono andate hanno preso il premio Nobel quindi adesso deve arrivare la materia oscura appunto deve arrivare la materia oscura certamente ma non sarò io puoi stare sicura su questo puoi scommettere un problema di vincere tu sei come un fisico italiano che magari alcuni dei nostri il nostro pubblico conosce il buon Occhialini che diceva sempre che tutti quelli intorno a lui prendeva i premi Nobel e lui era l'unico che non aveva mai preso il premio Nobel pur ovviamente avendo fatto ricerche molto importanti uno dei più importanti del novecento per cui io non sono a quel livello però né tanto meno mi lamento va bene direi che ti ringraziamo e rimaniamo con questo dubbio aperto ma parlando di teorie di gravità e di materia oscura necessariamente bisogna rimanere con delle domande aperte del resto la fisica è piena di domande no? noi rimaniamo avanti con domande non con risposte sono le cose più interessanti esatto le risposte via si passa oltre si gira pagina esatto esatto va bene allora ti ringrazio saluto il nostro pubblico ripeto che potrete vedere questa intervista poi sul nostro canale youtube dove se volete potete registrarvi o sul nostro sito www.planetarioeditorino.it e niente ti ringrazio Antonaldo grazie a te buon lavoro ciao ciao ciao